Buonasera, ben trovati per l'ultima edizione del telegiornale di Telemolise. Continua il dibattito sulla drammatica situazione economica e produttiva del Molise. Le istituzioni appaiono paralizzate, l'opposizione in calza frattura ma a pagare. Sono i lavoratori a rischio e i disoccupati. In apertura Giovanni Minicozzi. Continua il confronto a distanza tra i diversi esponenti politici regionali, ma fuori dalle sedi istituzionali, sulla drammatica situazione economica e produttiva che travolge la maggioranza delle aziende piccole, medie e grandi dislocate sul territorio regionale. L'ex governatore Michele Iorio incalza la giunta frattura e chiede decisioni rapide per tentare di salvare il salvabile. Siamo di fronte a una crisi veramente tremenda, una crisi mai vissuta da questa regione, che non si ricorda se non dal dopoguerra perché io credo che la diffusione delle varie crisi aziendali sta diventando veramente un fatto patologico che va oltre la crisi del momento. A livello nazionale si discute quasi solo di lavoro a tutti i livelli, si stanno facendo ipotesi, discussioni, programmi per aiutare i giovani, tranne che nel Molise perché di questo non si discute assolutamente. Io chiederò e chiederemo insieme a chi lo vorrà sottoscrivere una convocazione urgente del Consiglio regionale per affrontare i problemi più immediati e per sapere che cosa sta facendo la giunta regionale. Quali sono le situazioni più difficili? In particolare la GAM, io credo che ormai l'azienda, date le decisioni non assunte dalla giunta regionale, è un'azienda morta e rispetto ad un'azienda morta di quel livello c'è veramente di che preoccuparsi. Dobbiamo sapere entro questo mese, entro il mese di maggio, che cosa ha intenzione di fare la giunta regionale, qual è il piano industriale e se c'è ancora qualche possibilità tutti insieme possiamo concorrere a risolverla. Se non sarà così davvero assisteremo a momenti tragici in questa regione. Ma la GAM può essere ripresa per i capelli? È molto difficile, la GAM non doveva chiudere, la GAM doveva rimanere anche con quelle perdite economiche che sono state enunciate, ma rispetto al ritorno economico del PIL della regione e alla possibilità dei lavoratori di continuare a lavorare, valeva la pena di aspettare qualche altro mese in attesa che un privato intervenisse. Si è voluto invece chiuderla, si è sbagliato e dobbiamo rimediare. Come si rimedia? Riaprendola nella maniera più veloce possibile, con interventi mirati, anche con produzioni limitate, ma riaprirla per far rivivere quel settore. E tornano a farsi sentire i comitati cittadini molisani in vista dell'imminente licenziamento del nuovo piano operativo per la sanità. Hanno ribadito che la distribuzione dei posti letto deve rispettare la media nazionale che assegna alle strutture private non più del 20% della quota totale. Nella ristrutturazione della rete ospedaliera pubblica hanno chiesto che siano garantiti i servizi di prima assistenza al paziente, che debba essere raggiunto il pareggio del bilancio per il 2014, che tutti i rapporti di convenzione debbano essere ispirati al principio di solidarietà tra pubblico e privato. I comitati Osservatorio per il diritto alla salute, Cardarelli Benecomune, Veneziale Benecomune e Pro Cardarelli, hanno infine sottolineato la necessità di prevedere e adottare tutte le misure per potenziare il servizio pubblico e risanare le strutture riorganizzando le attività. E ora apriamo l'ampia pagina elettorale. Scoppia la polemica all'interno del centro-sinistra con il siluro lanciato da Nico Ioffredi di SEL agli alleati per le candidature di esponenti del centro-destra. Nelle liste che sostengono Battista il caso è scoppiato durante la visita a Campobasso del segretario nazionale del partito, Nichi Vendola. C'era per noi Anna Maria Di Matteo. È stato Nichi Vendola ad inaugurare ufficialmente la sede di SEL a Campobasso. L'occasione è stata offerta dal suo arrivo in città per sostenere la candidatura dell'aspirante sindaco del centro-sinistra Antonio Battista. In un affollato incontro è stata presentata la lista di Sinistra Ecologia e Libertà nel corso del quale non sono mancati i colpi di scena. A sorpresa il consigliere regionale Nico Ioffredi nel ribadire il sostegno del partito a Battista ha sferrato un attacco inaspettato quanto violento agli alleati. Lo ha fatto la presenza del governatore Frattura intervenuto alla manifestazione che è rimasto di sasso di fronte alle parole pronunciate dall'esponente di SEL. In occasione di queste elezioni ha esordito Ioffredi. La nostra lista è stata l'unica del centro-sinistra ad aver respinto l'ondata di transfughi del centro-destra. Poche parole dal peso deflagrante per la coalizione finita nell'occhio del ciclone proprio per aver imbarcato esponenti di spicco dell'amministrazione uscente guidata da Gino Di Bartolomeo. All'interdetto Battista non è rimasto che ribadire la validità del suo progetto politico che parte dalle idee della persona, detto mentre Frattura ha preferito sorvolare. A suo arrivo a Campobasso Vendola si è intrattenuto con i giornalisti affrontando temi nazionali e quelli strettamente locali. Oggi dovremmo guardare con grande attenzione lo smarrimento che esiste in Italia e in Europa. Il rischio che la crisi economica così dilacerante possa produrre una rottura della convivenza, della democrazia. I partiti nazisti e fascisti sono dati in irresistibile ascesa in tutta Europa. E anche in Italia la predicazione populista, l'urlo, la violenza verbale, l'indicazione di risposte facili, usciamo dall'euro e si risolve tutto. È veramente la stagione della demagogia, di un populismo malato. In altre epoche storiche tutto questo è finito nella sventura, tutto questo ci ha portato in una situazione che assomiglia a un buco nero della civiltà. L'altra Europa con Zipras è l'idea che bisogna difendere accanitamente con le unghie e con i denti l'Europa perché fuori dalla prospettiva dell'Europa c'è il ritorno del nazionalismo, c'è il rischio della guerra. Però bisogna mettere al centro dell'Europa i diritti delle persone, il diritto al lavoro. Per quanto riguarda le amministrative a Termoli è scoppiato il caso. Selle è uscito dalla maggioranza non appoggia il candidato del centro-sinistra perché contesta l'alleanza con l'Udc, invece a Campobasso appoggia il candidato sindaco Battista. Ma io sono il leader di questo partito, non sono il boss di questo partito. Credo che i territori abbiano giustamente la conoscenza, vivono giorno per giorno le possibilità e le frustrazioni e scelgono, fanno una valutazione che io non posso che rispettare. Non è che ho la palla di vetro da Bari o da Roma, decido quello che devono fare a Termoli. Rispetto quello che scelgono i miei compagni e le mie compagnie, francamente. Penso che non si possa, diciamo, i giorni feriali dire quanto sono importanti i territori e le comunità locali e poi alla domenica dire no, comando io. Dopo la presentazione della lista al comune, Vendola si è spostato alla biblioteca Albino per l'iniziativa promossa dal comitato regionale della lista Tsipras alle europee. La visita a Molissana del segretario nazionale di SEL si è conclusa a Termoli, dove Vendola ha tenuto un comizio in piazza. Sarebbero circa un centinaio gli sfratti esecutivi dagli alloggi dello IACP di Campobasso e altrettanti interesserebbero il restante territorio regionale. A sottolinearlo, il candidato sindaco del capoluogo di regione, Giuseppe Saluppo, siamo di fronte a un vero e proprio dramma sociale che si ripercuoterà sui comuni di competenza, ha aggiunto incontrando una delegazione di affittuari sfrattati di Campobasso. Si tratta di famiglie che hanno perso il posto di lavoro, che non hanno più reddito e che non sono più nelle condizioni di pagare il fitto, ha spiegato Saluppo, ha quindi chiesto alla regione di predisporre una specifica moratoria per consentire il blocco dell'esecutività degli sfratti in attesa di un controllo sulle singole posizioni morose e l'avvio di un piano di rateizzazione. Andiamo ora a Termoli, dove c'è stata la presentazione in Piazza Duomo delle liste che appoggiano il candidato del centrodestra Michele Marone. L'unità di una grande squadra sarà determinante per vincere, ha detto l'aspirante sindaco. C'era per noi Fabrizio Occhionero. Ha scelto la cornice di Piazza Duomo per la prima uscita pubblica con gli aspiranti consiglieri. Un incontro di presentazione voluto dal candidato sindaco di centrodestra Michele Marone, aperto dalle poesie di Nicolino Di Pardo e da un forte legame con la storia della città. Poi ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere l'unità della coalizione. Marone si è rivolto all'ex sindaco Antonio Di Brino per il suo gesto affermato di intelligenza politica, a Luigi Velardi per l'apporto dell'Udc e agli altri partiti e quindi all'Udeur, che si appellerà al Consiglio di Stato per chiedere la riammissione alla tornata elettorale. Una forza politica presente, sempre e comunque evidenziato Marone. Uno stile davvero moderato, quello del candidato sindaco che ha parlato di un impegno capace di interpretare i sentimenti ed esigenze di tutti i termolesi. Perché soltanto ascoltando le loro esigenze e attraverso un'azione concertata e condivisa si può raggiungere il bene della collettività. L'azione amministrativa evidenziato Marone sarà efficiente, imparziale e incentrata su diverse priorità. Innanzitutto le politiche sociali a cui andremo a destinare anche un aumento delle risorse nel bilancio comunale. Il turismo che, come ho detto già in diverse uscite pubbliche, deve rappresentare il petrolio della nostra economia sotto il profilo della ricchezza. La riqualificazione urbanistica attraverso il recupero delle aree verdi e l'arredo urbano, nonché il completamento delle opere di urbanizzazione rimaste incompiute. Il porto che si dovrà dotare innanzitutto di uno strumento, il cosiddetto PRG portuale e poi bisogna stimolare l'opera di dragaggio che è chiaramente di competenza regionale. Al termine dell'incontro Marone ha rivolto un appello ai candidati per impegnarsi in campagna elettorale porta a porta in modo capillare perché Termoli deve funzionare e, ha concluso Marone, non può e non deve finire, nelle mani sbagliate. E restiamo a Termoli perché emulare il governo Renzi al comune di Termoli è l'obiettivo del candidato sindaco del centro-sinistra, Angelo Sbrocca, che ha presentato le cinque liste, sostenuto anche dal presidente della regione, Paolo Frattura. Ancora Fabrizio Chionero. Una candidatura frutto di un metodo democratico, quello delle primarie, che consente di scegliere la persona ritenuta più idonea e avvicina la gente alla politica. Così Angelo Sbrocca davanti ai suoi candidati e ai cittadini nella convention organizzata a Termoli per presentare le cinque liste collegate. Partito Democratico, Italia dei Valori, Popolari per l'Italia, Unione per Termoli dell'assessore Facciolla e la civica vota per te, Sbrocca sindaco. Io non sono mai stato candidato in altre competizioni elettorali. E poi l'elemento di novità è soprattutto quello che è il nostro programma, che ha degli obiettivi diversi, differenti e distanti da quella che è stata la vecchia politica. Trasparenza del Palazzo, sociale e benessere dei cittadini, obiettivi primari in questo momento di crisi. Abbiamo una coalizione coesa, ha aggiunto Sbrocca, fatta di varie anime ma unita per il cambiamento. Il candidato sindaco ha parlato di un voto consapevole di maturità politica e punta anche sull'effetto traino dei partiti in corsa alle elezioni europee. Sarei un bugiardo a dire che non ci sarà un traino. Io credo che l'effetto Partito Democratico, Italia dei Valori, avrà una grande importanza perché il Partito Democratico è in grande ascesa. Come si diceva anche ieri, Renzi viene ad essere condiviso, il governo Renzi viene ad essere condiviso dal 66% dei cittadini di questa città. E noi, senza voler scimmiottare, ma sicuramente vorremmo emulare, il governo Renzi nella realtà cittadina. E per sostenere la candidatura di Sbrocca è intervenuto a Termoli anche il presidente della regione, Paolo Frattura. Siamo qui auspicando che possa essere Angelo il prossimo sindaco di Termoli. Con Angelo abbiamo costruito un percorso politico sulla base della scelta fatta dai termolesi che hanno partecipato in maniera straordinaria alle primarie. Parliamo ora delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Alla Sala Gialla della provincia di Isernia si è svolto un incontro con due candidati della lista scelta europea. C'era per noi Sergio Di Vincenzo. Uscire dall'euro è impensabile perché si tornerebbe alla svalutazione a doppia cifra che l'Italia ha già conosciuto e ciò avrebbe ricadute negative sui cittadini chiamati come sempre a pagarne le conseguenze. E' questo uno dei passaggi dell'intervento di Raffaele Prodomo a Isernia per proporre la sua candidatura per il rinnovo del Parlamento europeo. In campo con la lista scelta europea nella circoscrizione Italia meridionale ritiene che l'Unione debba andare oltre la moneta unica cambiando passo sotto l'aspetto delle politiche economiche. Rivedere quella rigidità eccessiva che ha portato in qualche modo sì a evitare inflazione e recessione economica però ha anche impedito una ripresa effettiva dello sviluppo. Allora da questo punto di vista io mi sento di dire che i parametri economici da adottare sono quelli di una politica un po' più espansiva quindi bisogna convincere i paesi europei a investire di più del loro capitale, del loro PIL in quelli che sono prodotti di possibile sviluppo economico soprattutto in funzione di quella che è la situazione delle regioni meridionali. Noi dobbiamo restituire l'Europa agli europei cioè fare in modo che gli europei siano in qualche modo cittadini e abbiano il senso di una cittadinanza comune pur nella diversità. La lista di scelte europea si propone agli elettori come alternativa a socialisti e popolari ma per Annarita Frullini, anche lei candidata nella circoscrizione Italia Meridionale e molto altro rappresenta anche l'occasione per dare maggiore forza a realtà più piccole come Abruzzo e Molise spesso ritenute marginali. I grandi partiti non hanno candidato persone che siano espressione della forza, della vitalità, della cultura, del territorio e questo mi sembra un danno perché non è che non si è garantita la rappresentanza ma non si è neanche garantita ai cittadini, a Bruzzese e Molise di schierarsi ai blocchi di partenza. Se considerate che insieme siamo quasi due milioni di persone questo mi sembra un deficit della politica importante nazionale. Crediamo nell'Europa perché più Europa significa più Italia, più Abruzzo, più Molise. Cambiamo argomento. C'è stata un'operazione antidroga della Guardia di Finanza di Campobasso lungo la Bifernina tra Termoli e Campobasso. Quattro chili di marijuana sequestrati e due uomini di nazionalità albanese arrestati. Sentiamo ancora Anna Maria Di Matteo. Quando i finanzieri li hanno fermati per un normale controllo hanno subito mostrato segnali di nervosismo. A quel punto sono scattati controlli più accurati all'auto. Un Audi A4 sulla quale viaggiavano. Il mezzo che da Termoli era diretto a Campobasso è stato fermato lungo la Bifernina. Il cane antidroga Oba, un pastore tedesco di 12 anni, è immediatamente fiutato all'odore della marijuana. Sette panni di droga del peso complessivo di 4 chili erano nascosti all'interno della macchina, avvolti nel cellofan. Per i due corrieri, due albanesi residenti a San Martino in Pensilis, sono scattate le manette. Sono stati rinchiusi nel carcere di Larino con l'accusa di traffico ai fini dello spaccio e di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Campobasso. Risultati ampiamente positivi come sempre quando c'è una sinergia tra gli uomini del Goa e del Gico e la compagnia di Campobasso che con le unità cinofile collabora e supporta questi posti di controllo che noi facciamo spesso lungo la Bifernina, la tratta che porta da Termoli a Campobasso e da Campobasso a Termoli soprattutto in coincidenza con i fini settimana e con il periodo feriale che vede un maggior afflusso di persone in quel di Termoli. In queste operazioni di servizio sono stati arrestati due responsabili di nazionalità albanese ma residenti da molti anni in Italia peraltro. Si tratta di due incensurati sconosciuti alle forze dell'ordine. Abbiamo motivo di ritenere sulla base degli successivi accertamenti che la droga fosse destinata al mercato di Campobasso, sì assolutamente. Quando parliamo di marijuana sicuramente la provenienza qui è in Albania anche l'ascisce di provenienza albanese ancorché possa provenire anche da altre piazze del territorio nazionale da Milano, da Bologna eccetera. Per quanto riguarda cocaina, eroina, sono droghe un po' più sofisticate la provenienza è sicuramente campana. Il Tribunale del Riesame di Campobasso ha dato ragione all'Avvocato Arturo Messere e ha annullato il provvedimento di sequestro dei beni di Michele Picciano indagato dalla Procura per peculato in relazione all'inchiesta sulle spese dei gruppi consigliari. Ce ne parla Enzo Di Gaetano. Inchiesta sulle spese dei gruppi consigliari alla Regione Molise clamorosa decisione del Tribunale del Riesame di Campobasso tutti i beni immobili, i terreni, l'auto e i due motocicli sequestrati a Michele Picciano sono stati dissequestrati e tornano nella piena disponibilità dell'ex Presidente del Consiglio regionale. È stato l'Avvocato Arturo Messere a chiedere di ottenere la revoca del provvedimento di sequestro chiesto dalla Procura e disposto dal GIP. Il difensore di Picciano ha dimostrato davanti ai giudici del Riesame Scarlato, Rinaldi e Vigliotti che il provvedimento di sequestro era stato adottato dal GIP in base ad una delle norme della legge Severino del 2012. I fatti contestati a Picciano dalla Procura invece si riferivano ad un periodo temporale fino al 2011 in sostanza precedente all'entrata in vigore della legge Severino. Messere ha sostenuto con ragione che le norme a cui si richiamava il sequestro non potevano essere retroattive e quindi il provvedimento chiesto dalla Procura e adottato dal GIP non poteva essere adottato per fatti antecedenti all'entrata in vigore della stessa legge. Tutti i beni sequestrati tornano quindi nella piena disponibilità di Picciano e l'avvocato Messere ha espresso la sua grande soddisfazione per la decisione dei giudici del Riesame che hanno confermato uno dei pilastri del diritto quello della non retroattività delle sanzioni. Ad oggi nell'ambito dell'inchiesta sulle spese dei gruppi alla Regione sono 35 consiglieri regionali segnalati dalla Guardia di Finanza per le ipotesi di peculato. Tre posizioni risultano archiviate tutte le altre sono oggetto di approfondimenti investigativi da parte della Polizia Giudiziaria. A partire dal luglio 2013 la Procura ha interrogato quasi tutti gli indagati contestando loro i dati rilevati dal Gico di Campobasso e il rispetto a Costoro sono attualmente in fase di esame le memorie difensive prodotte dagli indagati. Sindaci e cittadini dell'area del Fortore hanno manifestato lungo la Fondovalle Tappino per chiedere la messa in sicurezza immediata e lavori risolutivi di una strada che è teatro di troppi incidenti anche mortali. Tonino Danese Una strada alla Fondovalle Tappino dove gli incidenti purtroppo anche mortali continuano ad accadere una strada alla Statale 645 specie tra i chilometri 14 e 19 dove gli interventi fatti non sono stati risolutivi è il parere di molti cittadini automobilisti e degli amministratori dei comuni che affacciano sull'arteria sia a Molisani sia delle province di Foggia e Benevento che si sono dati appuntamento al chilometro 16 una 15 nei paesi nei quali è stata fatta una raccolta firme per sollicitare interventi da parte della Regione dell'ANAS e di quanti sono preposti a garantire la sicurezza su un tratto di strada non sicuro su cui vanno urgentemente fatti i lavori definitivi. Chiediamo l'intervento di rifacimento del manto stradale ricominciare i lavori che sono stati bloccati da 5 anni e chiediamo anche se si può dire un manto stradale edonio al chilometro 19 che abbiamo anche il problema della Frano oltre gli incidenti stradali. Un parere condiviso da chiusa ogni giorno quella strada non solo Molisani ma anche Pugliesi e Campani. Io sono vice sindaco di Castelvetri in Valfortore e i miei cittadini si regano quotidianamente a Campobazzo per vari motivi cure mediche per ragazzi che vengono a scuola per lavoro. L'ANAS si deve sbrigare ad appaltare o riappaltare questo tratto qua in oggetto è inconcepibile nel 2014 un tratto che si scivola e quindi c'è bisogno di un asfalto drenante. Mi risulta da notizie ufficiose che i lavori sono iniziati nel 2011 sono stati poi immediatamente sospesi perché c'è stato un ribasso che credo in maniera tecnica può essere definito anomalo intorno al 50% quindi la ditta non è riuscita con la somma a disposizione ad eseguire tutti i lavori. L'ANAS consente che possano espedarsi gare di appalto al massimo ribasso non consente l'utilizzo dei ribassi per lo stesso candiere ecco credo che dovremmo attivarci per far sì che le somme incamerate cioè le somme che l'ANAS ha risparmiato per l'esecuzione di questi lavori possono essere destinate e non so nemmeno se è possibile tecnicamente ma trovare una forma legale che ci consente di utilizzare quelle somme a disposizione per completare quest'opera. In sostanza l'appello lanciato dalla Fondovalle Tappino è a fare presto qualcosa affinché non si verifichino altri incidenti su una strada piena di croci dove solo pochi giorni fa uno dei manifestanti ha rischiato la vita. al chilometro 17 più avanti purtroppo siamo usciti fuori strada eravamo io un mio amico tornando dalla piscina era appena appena bagnata la strada che penso che sia una condizione brutta per anche le condizioni dell'asfalto in questo tratto. Siamo stati ieri in prefettura abbiamo avuto l'incontro con il signor prefetto e ringrazio veramente al signor prefetto e da quello che ci ha detto che risolverà il problema al più presto in breve è stata veramente positiva la cosa. L'amministrazione provinciale di Isernia ha licenziato tre collaboratrici di sfide l'agenzia che per conto della provincia segue i progetti di sviluppo economico una delle tre lavoratrici aspetta un bambino le minoranze hanno messo sotto accusa Mazzuto e allora sentiamo ancora Enzo Di Gaetano. Consiglio provinciale ad alta tensione in via Berta chiesto dalle minoranze è servito a fare il punto sulla difficile situazione finanziaria della provincia di Isernia ma presto l'attenzione di tutti i consiglieri si è rivolta alla vicenda umana di tre lavoratrici dell'agenzia sfide che sono state licenziate una situazione delicatissima in quanto una di loro aspetta anche un bambino le minoranze hanno chiesto chiarimenti perché quella scelta e soprattutto perché non fare tagli su altre spese salvando il posto di lavoro a tre dipendenti per Mazzuto non si poteva fare altrimenti. Tagliare i costi oggi avete licenziato tre ragazzi di sfide che stanno qui con un muso lungo perché presidente perché questa decisione che poi è incomprensibile no non è incomprensibile io credo che il consiglio di amministrazione di sfide ieri ha stato presentato un documento dal direttore generale circa una riorganizzazione anche di sfide e voglio dire la spending review non è che c'è solamente per alcuni sì e altri no purtroppo ci sono dei capitoli per i quali sfide non ha fondi insomma e quindi le persone che non rientravano in quei capitoli sono fuori adesso si tratta di individuare altri progetti per cui c'è la possibilità di rivedere anche quella situazione ma rispetto ad altri progetti non rispetto ai progetti precedenti perché non ci sono coperture e se dobbiamo fare un'analisi di tutto la dobbiamo fare fino in fondo abbiamo cominciato e mi auguro che possiamo fermarci anche qui insomma voglio dire intanto anche a quelle persone di sfide non è che sono state licenziate loro erano progetti insomma voglio dire quei progetti non ci sono più per cui non abbiamo più fondi per coprire quei progetti per cui il problema vedremo di risolvere magari utilizzando fondi per altri progetti che abbiamo in piedi sperando che ci vengano finanziati entro giugno dovranno essere rimesse a lente ancora dall'amministrazione centrale delle stati 3 milioni e 9 che sono di competenza del 2013 quindi anche la copertura per quanto riguarda gli stipendi mi pare che ci sia tutta insomma fino a giugno e poi vorrei anche ricordare che c'è anche questo in prospettiva però anche quel decreto ingiuntivo al quale abbiamo avuto ragione rispetto all'amministrazione centrale per le mancate rimesse degli anni precedenti le quali noi potremmo eventualmente con quei fondi intanto andare a definire quello che come dire le pendenze dell'ente rispetto ai creditori quindi anche le imprese rispetto si può risolvere anche il problema con la cassa depositi e prestiti per i muti che abbiamo contratto per ottemperare quelle che sono le incompense dell'ente e poi non lo so voglio dire c'è un riconoscimento anche per gli interessi fino al momento in cui che dovranno essere calcolati fino al momento in cui questi fondi dovranno essere versati che potranno mi auguro entrare in bilancio con quegli interessi che stiamo intorno a 1.8 milioni o 2 milioni di euro e adesso parliamo del premio dell'Associazione del Centro Storico di Campobasso che ogni anno consegna un riconoscimento ad un cittadino che si è distinto per particolari meriti il premio è andato al dirigente scolastico Sergio Genovese vediamo Campobasso città piena di storia fatta di uomini e di monumenti di grande spessore però troppo spesso dimenticati è questo l'amaro commento dell'associazione nata nel centro storico della città lo spigolo di Ciccio Santa Maria che da un po' di tempo ha deciso di premiare annualmente un capobassano che si è distinto per particolari meriti sociali quest'anno a ricevere il premio il dirigente scolastico Sergio Genovese che ha ringraziato gli organizzatori dell'evento che si è svolto nell'aula magna della storica scuola elementare Enrico Dovidio si tratta di un evento importante per la città e per tutti i campobassani ha detto penso di non aver fatto proprio tanto per mantenere in vita la storia della nostra città però lo prendo anche come uno stimolo in più per poter continuare a raccontare per quel poco che mi compete la nostra storia ma una cosa invece ho colto e a cui do moltissimo significato è che questo premio mi è stato assegnato per aver tentato di rivalorizzare la scuola Enrico Dovidio che è stata la scuola di tutti i campobassani ecco questa è una cosa che mi onora perché questa scuola che appunto è stata la scuola di tutta la nostra città in questi ultimi anni stava cadendo nell'oblio oggi invece con una serie di iniziative non ultima quella della struttura politica che gli ha affidato un dimensionamento nella politica della razionalizzazione scolastica e quindi una dirigenza questo motivo assieme ad altri ci dà speranza perché questa scuola possa tornare ad essere una straordinaria comunità per tutte le generazioni attuali e quelle che verranno durante la premiazione Sergio Genovese ha voluto mandare anche un appello alla politica locale la struttura politica quella amministrativa ha poca sensibilità per i campobassani che hanno fatto vivere la nostra città ho fatto l'esempio poco fa del maestro del dottor della valle Bartolo della valle che ha vaccinato intere generazioni che è scomparso nel silenzio e questa cosa è mortificante ora se non si ha la sensibilità per ricordare gli uomini che hanno fatto vivere appunto il campo basso almeno la si abbia per i monumenti e la scuola Enrico Tomidio è un monumento della città Termina qui l'ultima edizione del telegiornale di Telemolise vi saluto come sempre grazie perché scegliete la nostra informazione a tutti buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti